Ciao amici oggi parliamo di questo prodottino cos'è questa nota di agnosi con display a colori ci permette di leggere i codici errori del nostro veicolo di cancellare i codici errore e ha anche un tester di batterie ci permette di vedere la tensione fa da voltmetro e anche lo storico ovvero possiamo vedere cosa abbiamo diagnosticato in precedenza andiamo ad aprire la scatola vediamo cosa c'è all'interno poi andiamo a fare anche un piccolo test e la mettiamo alla prova andiamo ad aprire la confezione all'interno troviamo il nostro apparecchio lato di agnosi e libretto di istruzioni non c'è nient'altro nel libretto di istruzioni troviamo anche la versione italiana e come c'è scritto qui si applica su tutti i veicoli a benzina e diesel 12 volte da 1996 in poi conformi hobbit 2 poi che altro c'è di interessante funzione voltimetro e indicatore del livello della batteria eccetera ora poi non sto a leggervi tutte le istruzioni e niente sì come abbiamo già detto funziona dai veicoli da 1996 in poi veicoli statunitensi europei asiatici eccetera basta siano conformi all'obbit 2 marca donos home donos home non so come si pronuncia questo è il nostro dispositivo semplicissimo con l'attacco hobbit 2 adesso andiamo a collegare a un veicolo e lo mettiamo in funzione e vediamo un po come si comporta qui c'è una usb type c penso sia per poter scaricare qualcosa non lo so comunque una piccola memoria che serve appunto per lo storico allora amici ho collegato il lato diagnosi al hobbit di della macchina sono a bordo di una hyundai matrix adesso andiamo a vedere nel dettaglio lato diagnosi come si comporta e come si presenta volta collegata si accende il display a colore come vi avevo detto partiamo dalla parte in fondo la parte destra ci sono le informazioni dove appunto ci dà il codice seriale dello strumento e altri dati poi su aiuto se noi ci spostiamo le frecce confermiamo ci dice cos'è l'obbit e c'è tutta sta descrizione qui naturalmente ho già impostato la lingua italiana la modalità hobbit 2 ci dice appunto anche cos'è l'obbit 2 andando indietro vabbè copertura della vettura ci dice le solite cose vi ho detto all'inizio che va dal 1996 in poi il test sul lato vetture qui invece troviamo parametri e ci dà vari parametri che va a rilevare gli rp m ma ma c'è anche lambda voletta da qualche parte eccolo qui vedete insomma ci sono diversi parametri con esc torniamo indietro andiamo su impostazioni strumento troviamo come prima riga la lingua e noi abbiamo selezionato l'italiano andando indietro c'è l'unità di misura ho messo metrico test schermo fa un test dello schermo test chiave ci fa provare i pulsanti del lato diagnosi se io vado a premere esc ingresso su giù destra sinistra ok ci dai vari pulsanti dice funzionano correttamente se non dovesse funzionare un pulsante naturalmente non si accende la scritta relativa al pulsante andiamo a premere qui per uscire si fa esc test led ci fa il test di questi tre led davanti del semaforino andiamo indietro e andiamo nella schermata principale revisione questo qui è l'archivio come vi dicevo esame codice guasto ora io non c'ho niente registrato nella prima volta vado a provarla esame parametri esame freeze frame e queste tre voci naturalmente sono cancellabili da queste altre tre voci di sotto cancellare dati dtc cancellare parametri e cancellare freeze frame semplicissimo andiamo indietro qui vado ad accendere il quadro della macchina che comunque l'autodiagnosi si utilizza col quadro acceso qualsiasi autodiagnosi vado su voltmetro gli do ok e lui ci rileva la tensione vedete naturalmente ora la macchina spenta c'è una tensione un po più bassa comunque vado indietro sistema batteria lui va a fare un test test di avviamento ci dice spingere il motore prima di premere invio per accedere al test ok avviamento motore andiamo a mettere in moto il motore e qui ci dà il grafico eccolo qua vi do ok tempo 1680 millisecondi test basso test 9.41 volt test di carica ora 15 volt 14 test ondulazione prova caricata aumenta gli rpm a 2.500 giri mantieni lì per 10 secondi aumentiamo ricarica normale andiamo indietro se arrivato qui a voltmetro ora mi dà una tensione molto più alta test di ricarica normale verde quindi va bene poi cosa troviamo troviamo qui in alto a destra ricerca codice guasto ovvero se noi selezioniamo a mano il codice del guasto che ci dà naturalmente se la macchina ha un'anomalia lui ci dirà cosa associata ad esempio p 0 100 si vede all'ok lui mi dice sensore massa aria di volume flusso aria funzionamento difettoso del circuito quindi era una cosa molto utile anziché prendere il telefono andare su internet a cercare il codice guasto non seriamo direttamente qui sul lato di agnesi e lui ci dice a cosa è associato quel codice niente io partirei subito con no ridiness ma di agnesi di agnesi vediamo un po se legge tutto naturalmente qui non ci sono spie accese vedete tutto spento poi andiamo a simulare un'anomalia vediamo se la trova stato monitoraggio ok lettura codici ok tutto verde non trova errori usciamo adesso vado a spengere la macchina vado a staccare un connettore per far sì che si accendano a spia e poi andiamo a vedere se lato di agnesi la rileva e la spenge allora giriamo il quadro andiamo a mettere in moto ecco qua la nostra spia gialla perfetto io ho staccato un connettore adesso andiamo a vedere se la nostra auto di agnesi la rileva e se la spenge quindi giro il quadro andiamo sulla nostra auto di agnesi un bello zoom do l'ok su di agnesi adesso lui va a comunicare con le varie centraline gli diamo ok lettura codici ok ed ecco qui il primo errore p 0 102 sensore massaria di volume flusso fra l'altro vedete ce lo dice anche qui ci dà sia il codice sia la descrizione quindi è un problema di sensore massaria adesso andiamo a vedere cosa eccolo qua è staccato lo andiamo a collegare perfetto una volta ho legato spento il quadro vado a riaccenderlo vado di nuovo sul lato di agnosi gli do l'ok aspettiamo un po lettura codici sicuramente da sempre il solito errore eccolo qua gli do l'ok codice sempre il solito perché comunque la spia rimane accesa quindi vado a dargli cancella codice cancellare codice guasto si azzerato fatto perfetto qui è verde andiamo indietro andiamo su lettura codici ed è tutto verde infatti adesso se noi andremo a mettere in moto lato vettura sicuramente la spia sarà spenta sei sicuro di voler uscire ok andiamo a mettere in moto e incrociamo le dita perfetto quindi devo dire il lato di agnosi si comporta egregiamente